Salve amici del centro meteo italiano. Si preannuncia una lunga fase stabile e moderatamente calda per la nostra penisola. Vediamo allora la tendenza con gli ultimi aggiornamenti. Ponte di Ferragosto che si conferma all'insegna del tempo stabile su gran parte dell'Italia, da segnalare solo qualche temporale pomeridiano per lo più sui settori alpini. Temperature che nel corso della prossima settimana si porteranno di qualche grado sopra media ovunque, nessun particolare eccesso di caldo in vista con massime che saranno comprese tra 30 e 35 gradi. Il terzo weekend di agosto potrebbe vedere una nuova rimonta dell'alta pressione africana sull'Europa occidentale, parzialmente interessata anche l'Italia con anomalie più marcate al centro-nord. Tutti i principali modelli, anche per il lungo periodo, concordano per un predominio di un vasto anticiclone sui settori centro-occidentali del continente. Trattandosi comunque di tendenze, seguite come sempre tutti i prossimi aggiornamenti sia sul nostro sito che sul nostro canale YouTube. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano. Grazie a tutti!